Un mese e mezzo fa declinò la possibilità di candidarsi alla corsa al Parlamento anche a causa di una legge che avrebbe portato al commissariamento delle comune di Pesaro. Un mese e mezzo dopo il Partito Democratico sembra di nuovo bussare alla porta di Matteo Ricci. Questa volta non per ricorrere uno scranno a Camera o Senato dove i Dem hanno incassato una sconfitta cocente, ma proprio per raccogliere i cocci di questa sconfitta. Ci sarebbe infatti il nome del sindaco di Pesaro fra la rosa dei candidati al Dopoletta alla segreteria nazionale del PD. Un ruolo per il quale Ricci in queste ore è fra i nomi papabili sbandierati a livello mediatico nazionale assieme al governatore dell'Emilia Romagna Bonacini, alla sua vicepresidente Elislein, al vice segretario del partito Giuseppe Provenzano e al sindaco di Bari Antonio De Caro. Un totonomi forse prematuro ma che già presagisce l'area di un partito in cui corre il sentore della ripartenza dai sindaci e dall'anima delle amministrazioni locali, ovvero quegli stessi punti fermi cavalcati da Ricci che è anche il coordinatore nazionale dei sindaci PD. Rifondare il PD, dargli un'anima o forse andare oltre il PD, frasi apparse anche oggi in un nuovo post di Matteo Ricci che scrive come non è il momento di fare nomi e cognomi, nessuno oggi si può sottrarre. Capiamo perché non siamo stati percepiti come la forza del riscatto sociale e ridiamo velocemente speranza a un popolo deluso e arrabbiato. In quell'andare oltre al PD si vede anche la capacità di creare laboratori politici precursore a livello nazionale come l'intesa col Movimento 5 Stelle tradotta a Pesaro nella partnership consolidata con l'assessore Francesca Franquellucci. Dunque partita aperta per un congresso PD atteso per inizio 2023 che partorirà una nuova segreteria.